A me mi hanno dato, io l'ho dato pure, nel senso. Il mio figlio era piccolo che aveva un po' l'interno e io da 2019, anche lui, su due e no. Ora, io sono pure a schiacciare l'interno, non so la cosa che mi sa di andare, quello poi è che c'è la cosa. Grazie a tutti.